Salve a tutti, il titolo di questo intervento è ovviamente tarato sul mondo musicale, vedete vincoli e artifici per allontanare il pericolo, tra virgolette, del pubblico dominio in campo musicale, visto appunto l'evento strettamente legato all'ambito musicale. In realtà l'argomento si presta a riflessioni che non sono strettamente legate al mondo musicale, ma in generale a tutto il mondo della creatività e quindi a tutto ciò che riguarda il diritto d'autore. Cercherò però negli esempi e nelle slide che seguiranno di appunto soffermarmi sull'ambito musicale perché è quello che interessa alla platea di questo evento, di questo interessante evento a Napoli. Richiama il titolo anche una mia precedente conferenza che ho fatto a Torino ai primi di dicembre scorsi, di cui esiste anche in quel caso il video, quindi se volete andare a rivederlo potete trovare un approfondimento, una versione diciamo parallela di questo mio video, però appunto qui parlerò più che altro di esempi musicali e spero di incrociare così l'interesse degli spettatori. Un po' di slide diciamo di benvenuto e di presentazione per chi non mi conoscesse, questi sono i miei riferimenti in rete, più che altro appunto il blog che vedete qua in mezzo aliprandi.blogspot.it in cui trovate una maria di contenuti da me prodotti tra cui appunto le varie slide di tutti i miei interventi, le video lezioni e un po' di post con riflessioni sui temi a me più cari. Vedete anche Twitter, c'è anche poi vedrete alla fine una pagina Facebook che trovate qua. Se volete proprio rimanere in contatto il modo migliore sono proprio la pagina Facebook, la pagina non tanto il mio profilo personale perché lì trovate anche appunto cose personali, se volete seguire solo la mia attività di divulgazione e di ricerca scientifica la trovate qua, simone.aliprandi.page oppure su Twitter sono simonealiprandi. Anche questo filmato mentre lo state fluendo ovviamente è già online quindi chi volesse poi ritwittarlo e diffonderlo lo può trovare attraverso il mio canale YouTube e questi sono i libri da cui traggo buona parte delle cose che vi sto dicendo. Soprattutto questo secondo che trovate sulla destra, Far Open Access tra l'altro freschissimo perché è uscito a maggio di quest'anno, maggio 2017, contiene le riflessioni sul pubblico dominio in quel caso rivolte al mondo della ricerca scientifica ma come vi dicevo prima appunto sono questioni che toccano un po' tutto l'ambito della produzione culturale. Vi faccio vedere questi libri non tanto per fare lo spot pubblicitario in sei libri ma più che altro perché in questi link trovate i libri stessi. Adesso forse quello sull'Open Access è ancora in via, l'ebook è ancora in via di verifica e di produzione però quello sul copyright lo trovate liberamente online e quello sull'Open Access abbiate solamente pazienza qualche giorno, qualche settimana e lo troverete. Entriamo un po' nella materia, giusto per chi non sapesse bene come funziona il diritto d'autore, io solitamente utilizzo questa slide che funge da mappa orientativa, da mappa concettuale che ci spiega il funzionamento del diritto d'autore così in un colpo d'occhio. Il diritto d'autore, il copyright, io lo definisco un sistema closed by default, cioè che per definizione è chiuso. Così è stato impostato il diritto d'autore, questo aspetto crea un po' di problemi, però è così, ce lo dobbiamo per adesso tenere così e sicuramente sarà così ancora per un po' perché non sembra che ci sia intenzione a superare questa sua caratteristica. Sostanzialmente tutto ciò che viene creato e risponde a quei minimi standard di creatività e di novità risulta tutelato a diritto d'autore, automaticamente. Quindi by default tutto ciò che non è stato creato da me è stato creato a qualcun altro e quindi questo qualcun altro ha un diritto d'autore, ha un copyright. E quindi io come utente devo trattare questo contenuto come se fosse chiuso, come se fosse protetto. Quindi contro le grandi leggende metropolitane che c'erano in rete, per cui appunto se una cosa si trova su internet, su qualche social media, non c'è scritto nulla, allora è di tutti, la si può prendere liberamente. Assolutamente mi raccomando, non cadete in questo equivoco perché sennò non capiamo nulla di quello che vi dirò in questi prossimi 10-15 minuti. Quindi vedete, la regola è che tutto è sotto copyright tranne quando sono scaduti i famosi termini che la legge prevede affinché un'opera cada nel pubblico dominio, cioè il diritto d'autore scada, i vincoli di diritto scadano e quindi l'opera diventa patrimonio di tutti, patrimonio culturale dell'umanità, di pubblico dominio si dice tecnicamente. Vedete che dopo la scadenza dei termini io ho indicato la C di copyright come barrata, cancellata, a segnalare, a ricordare che appunto il copyright è finito. In realtà poi vedremo, ci sono alcuni diritti che comunque rimangono in alcuni ordinamenti, però l'utilizzo è comunque libero, vuol dire che possiamo utilizzare l'opera senza dover chiedere permesso a nessuno, senza avere dei vincoli ad esempio sul sfruttamento commerciale. Dall'altra parte del grafico, la zona cosiddetta, la zona blu, ci sono alcune aree eccezionali, cioè secondo alcune eccezioni appunto si può parlare di libero utilizzo, quindi le opere anche quando sono ancora sotto copyright eccezionalmente possono essere usate in modo libero senza dover chiedere il permesso all'autore. Perché? Perché in alcuni casi come vedete può essere la legge da aver stabilito che ci siano delle aree franche di libero utilizzo e nella legge italiana sono gli articoli 65 e 66 in poi della legge italiana sui diritti d'autore che è la 633 del 1941. In altri casi potrebbe essere stato il titolare dei diritti a rilasciare l'opera liberamente. Vedete che il simbolino che ho utilizzato è quello delle CC, delle Creative Commons, cioè delle licenze open più diffuse. In quel caso appunto è il titolare dei diritti che potrebbe essere l'autore ma non necessariamente potrebbe essere anche l'editore, potrebbe essere anche il produttore discografico, a seconda del tipo di opera che viene rilasciata. Il titolare dei diritti applicando queste licenze decide di liberare l'opera, liberare alcuni utilizzi dell'opera e quindi anche se l'opera comunque formalmente rimane sotto copyright, quindi non sono ancora scaduti i termini affinché l'opera cade nel pubblico dominio, essa può essere utilizzata con un certo margine di elasticità senza dover chiedere per forza il permesso. Perché? Perché essendoci una licenza il permesso è già concesso all'interno della licenza. Questo è veramente un riassuntone del funzionamento del diritto d'autore che più diciamo piaciuto di così non può essere, però serve a coloro che non avendo ben presente la materia difficilmente poi riuscirebbero a capire le riflessioni che faccio dopo. Allora proseguendo, noi adesso visto che il mio intervento è dedicato al mondo del pubblico dominio, voglio fare delle riflessioni strettamente sul pubblico dominio, vedete che ho messo il focus su questa parte, questa parte cerchiata, quindi non parlerò di libere utilizzazioni, tanto meno di licenza di creative commons, ma parlerò appunto del pubblico dominio, ma soprattutto di come il pubblico dominio viene compresso e a volte indebitamente ristretto diciamo, attraverso degli strani giochetti, che è un po' appunto il titolo di questo intervento, vedete vincoli e artifici per allontanare il pericolo del pubblico dominio, ho messo pericolo volutamente tra virgolette perché il pubblico dominio non deve essere assolutamente percepito come un pericolo, perché è cosa buona che un'opera dopo la sua vita, diciamo, di tutela 70 anni dalla morte dell'autore, che a volte supera il secolo perché appunto dalla morte dell'autore va calcolato in termini, quindi dopo essere stata vincolata e sfruttata economicamente dall'autore e le sue venti causa, cada finalmente il pubblico dominio e diventi patrimonio dell'umanità, quindi il fatto che per alcuni venga avuto visto come un pericolo significa che ovviamente questo qualcuno è qualcuno che ha interesse ad avvantaggiarsi economicamente grazie appunto a creare un'esclusiva attorno all'utilizzo dell'opera, quindi è chiaro che il pericolo tra virgolette perché è pericolo solamente per determinate categorie che sono proprio quelle che hanno, si sono escogitate, hanno escogitato questi vincoli e artifici che permettono loro di continuare ad avvantaggiarsi e a sfruttare le opere anche quando sono ampiamente cadute in pubblico dominio. E adesso vi spiego quali sono i casi principali con cui, diciamo, questi artifici vengono messi in atto. Giusto per chiarire un po' il concetto generale di pubblico dominio, pubblico dominio significa nessun diritto riservato e quindi che l'utilizzo è libero, senza vincoli, senza condizioni. Eh, così dovrebbe essere. Poi è davvero così semplice? Ovviamente no, non è per nulla semplice perché ci sono alcuni, come vi dicevo, alcuni vincoli aggiuntivi e scaltri artifici giuridici o, come vedremo dopo, anche solamente, fra virgolette, psicologici, comunicativi, quindi non strettamente giuridici, con cui i titolari di diritti cercano di allontanare il pericolo della caduta in pubblico dominio delle loro opere. Ecco i principali. Vabbè, ovvio che il principale, che però liquidiamo presto, è quello di cercare di fare pressione sui legislatori affinché essi allunghino la tutela. Adesso io vi ho parlato di questi 70 anni della morte dell'autore che è il termine generico, in realtà non è sempre 70 anni, a seconda dei tipi di opere e degli ordinamenti giuridici in cui ci troviamo questo termine può cambiare, però se pensiamo a quello che appunto è il più diffuso, il più noto ed è quello applicato anche da noi in Italia, 70 anni dalla morte dell'autore per la caduta in pubblico dominio di un'opera creativa è veramente un termine molto molto lungo, se pensate anche all'aspettativa di vita a cui siamo arrivati ai giorni nostri, quindi pensate a un autore che crea un'opera all'età di 20 anni, campa fino a 90, quindi ha una tutela di 70 anni nell'arco della sua vita, più altri 70 dopo la sua morte, di cui si avvantaggiano i suoi eredi. Quindi sono 140 anni, un secolo e mezzo quasi, di tutela di un'opera, in un mercato che poi ridicolmente cerca di rendere le opere sempre più obsolete nel giro di pochi mesi, sostanzialmente pensate alla musica, non so, alla musica dance, alla musica commerciale, pensate al software, a certi tipi di opere che per loro natura diventano obsolete nel giro di qualche anno, no? Vabbè, però c'è tutta un'attività di lobbying per cui i titolari dei diritti cercano di spingere sui legislatori, fare pressione sui legislatori affinché vengano, diciamo, cambiate le regole, vengano approvate nuove leggi, nuove direttive per allungare ulteriormente questo termine dei 70 anni. Negli Stati Uniti ci sono già riusciti e sono riusciti a portarlo a 95 anni in alcuni casi, quindi non è così da escludere che succeda presto anche in altri posti. Vabbè, chiuso questo primo, questo diciamo, questo caso zero, andiamo su quelli un pochettino più noti e più frequenti che sono ad esempio questo. Nel caso del nostro ordinamento, quindi ordinamento italiano ma anche francese ad esempio, spagnolo, gli ordinamenti diciamo di diritto d'autore e non di copyright, cioè quindi quelli figli del modello francese, di diritto d'autore francese, di cui noi appunto siamo un massimo esempio, questi ordinamenti hanno i cosiddetti diritti morali, cioè hanno un approccio a diritto d'autore più ampio rispetto a quello dei paesi anche lo sassone, per cui il diritto d'autore è inteso come una tutela che va a toccare anche l'aspetto personale, all'aspetto reputazionale dell'opera. Non posso spiegarvi adesso nel dettaglio, dopo c'è una slide che vi li fa vedere, però appunto questi diritti, questi detti diritti di tipo personale o anche detti più comunemente diritti morali, si estendono oltre la vita dell'autore e anche oltre i 70 anni della sua morte, cioè vedete, ecco questa è la slide che vi dicevo in cui vi elenco i quattro diritti morali previsti dalla legge italiana, questi diritti sono inalienabili e inestinguibili. Quindi cosa vuol dire che dopo la morte dell'autore e dopo anche i 70 anni di sfruttamento economico, anche quando l'opera cade in pubblico dominio dal punto di vista dello sfruttamento economico, rimane comunque tutelata da questi diritti morali che possono essere esercitati dagli eredi. Perché dico che questi diritti morali a volte possono essere uno stratagemma per allungare la tutela, perché appunto, è vero, ci sono casi molto limitati, vedete questi quattro casi, diritto lo vedete che avrò la paternità dell'opera, il diritto di impedire modifiche dell'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore, però ecco possono essere sempre chiamati, sempre tirati fuori dagli eredi se vengono verificati, se si verifica una di queste ipotesi e quindi l'opera non diventa veramente di pubblico dominio, di libero utilizzo perché potrebbe andarsi a toccare uno di questi aspetti. Non è un caso così frequente, però ve lo volevo segnalare. Questo invece è ancora più frequente e lo si nota soprattutto nell'industria discografica. Avete mai notato adesso perché ho messo la copertina del remaster dei Led Zeppelin? Qua dico nella slide che si può far leva sui cosiddetti diritti connessi. I diritti connessi sono i diritti non d'autore, ma sono i diritti degli artisti, interpreti, esecutori e dei produttori discografici, cioè di coloro che fanno un lavoro non strettamente autorale, ma che comunque hanno un ruolo fondamentale nel, passatemi il termine, confezionamento del prodotto musicale per essere poi fruito sul mercato. Perché ho fatto l'esempio del remaster? Perché il remaster è un classico esempio di stratagemma per dare nuova vita a delle registrazioni, a delle interpretazioni che ormai sono obsolete e che stavano diventando vecchi anche dal punto di vista proprio della scadenza dei diritti. Questo perché? Perché il diritto del produttore discografico parte da ogni volta che viene fatta la cosiddetta masterizzazione, il mastering. E quindi quel diritto in realtà lo si può far partire tutte le volte che si fa un remaster. Attenzione che deve essere un remaster, non deve essere una semplice, diciamo, ristampa, deve essere un'attività di rimasterizzazione vera e propria, però come vedete anche lì ogni tanto ci troviamo a, entriamo in un autogrill, in una libreria e vediamo l'ennesimo remaster dei Queen, l'ennesimo remaster di Michael Jackson, l'ennesimo remaster delle Zeppelin, quando uno si ricordava che solo qualche anno prima ne era già uscito uno simile, ok? E quelli sono tutti i modi per rimettere sul mercato qualcosa di nuovo che in realtà nuovo non è così, non è così tanto nuovo, perché appunto essendo alcuni interpreti morti da tempo e quindi non si possono più realizzare registrazioni, incisioni, allora si rimasterizza ciò che è passato. E quindi in questo modo sostanzialmente con i remaster riusciamo ad allungare la vita dando una tutela maggiore nel tempo, grazie appunto a questo diritto connesso che è quello del produttore che può essere sempre rinnovato con l'incisione, scusate, con la masterizzazione. Questi sono i diritti connessi che vi dicevo, ma l'esempio classico è quello proprio del produttore fonografico, vedete che c'è una definizione di diritti esclusivi su attività simili o connesse a quelle tutelate dal diritto d'autore in senso stretto e ci sono gli esempi, il primo, quello che vi ho citato adesso è proprio quello del diritto del produttore di fonogrammi, il diritto del produttore di opere cinematografiche è il secondo, ma poi ci sono anche i diritti degli artisti, interpreti e esecutori. Passo oltre, mi sembra che sia abbastanza chiaro questo esempio, ecco questo è quello, arriviamo a uno di quelli più fastidiosi e pericolosi, perché? Perché Farleva su questo diritto complicano un po' quelle cose. Il diritto sui generi si è detto anche database right, cioè diritto sulla banca dati, è un diritto che si è inventato all'Europa, all'Unione Europea nel 1996 con una direttiva e che quindi esiste solamente nel contesto dell'Unione Europea, nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi che hanno seguito questo modello, ma sostanzialmente facciamo riferimento all'ambito dell'Unione Europea. Questo diritto si applica sostanzialmente non tanto sul contenuto della banca dati, ma sulla griglia, cioè sulla banca dati in sé. Ovviamente con alcune eccezioni, con alcuni parametri specifici, con alcune caratteristiche che non vi posso spiegare in questa sede perché serve troppo lungo, però qual è il discorso? Che se un'opera di pubblico dominio viene inserita in una banca dati, può essere che l'opera in sé non sia tutelata, non sia più tutelata, ma sia comunque tutelato l'ensemble, che sia tutelato l'insieme, che sia tutelato la banca dati come opera complessiva. Quindi pensate ad esempio una banca dati, il classico esempio è quello che facciamo noi giuristi, le sentenze, noi avvocati fruiamo di banche dati giuridiche per fare il nostro lavoro. Queste banche dati vengono realizzate da case editrici specializzate in questo settore. I testi delle sentenze sono documenti di pubblico dominio, perché? Perché c'è una norma della legge italiana che stabilisce che quei documenti non sono sotto diritto d'autore perché vengono emessi in nome del popolo italiano, quindi sono documenti già alla fonte in pubblico dominio. Cosa vuol dire? Che se una sentenza, se un gruppo di sentenze viene inserito in queste banche dati, cioè viene organizzata sotto forma di banche dati, allora non posso più estrarre liberamente delle parti massive di questa banca dati con le sentenze, perché così andrei a violare non tanto il diritto d'autore sulla sentenza in sé che non esiste, ma andrei a violare il cosiddetto database right, il diritto sui generi del costitutore della banca dati, cioè di colui che ha fatto l'investimento per raccogliere e realizzare il materiale e realizzare la banca dati, inserendovi dentro il materiale. Questo, non so, ecco, in campo musicale può essere assolutamente parallelo all'esempio, se provate a pensare alla banca dati di archivi musicali, non so, di spartiti, anche di roba di pubblico dominio, è che se appunto strutturata sotto forma di vera e propria banca dati va a toccare e a risvegliare anche questo diritto che può essere fatto valere. Ripeto, poi ci sarebbe da spiegare bene come funziona questo diritto che è veramente complesso, adesso non posso in questa sede spiegarvelo nel dettaglio, però ho altri riferimenti che vi posso dare e altre mie video lezioni che lo spiegano abbastanza chiaramente, però considerate che esiste questa ipotesi. Passo ad un'altra, e questa immagino che chi lavora nell'ambito musicale la conosca bene, perché si può far leva anche su questo famigerato diritto demaniale, che però, attenzione, è stato abolito nel 1997. Non solo su questo diritto, si può far leva anche sulla cattiva burocrazia, sul fatto che la burocrazia tende a incancrenirsi, soprattutto in Italia, e quindi a, come dire, perpetuare una situazione anche quando, formalmente e giuridicamente, questa situazione è stata superata da una norma. Adesso spero di riuscire a farmi capire. Come vedete nell'immagine c'è il bordero, il cosiddetto programma musicale, il programma musicale cosiddetto anche bordero, siae, cioè il documento su cui gli organizzatori di un evento devono segnare, devono indicare i brani che sono stati eseguiti, per permettere a SIAE di fare i controlli. Tutto ciò sulla base di cosa? Sulla base di questa norma, che è l'articolo 51 del regio decreto 1369 1942, cioè che è il regolamento attuativo, il regolamento in esecuzione, esecutivo della legge su diritto d'autore. Quindi vedete, questo è l'articolo 51, che è in esecuzione di un articolo 175 della legge sul diritto d'autore. C'è la legge sul diritto d'autore che è la norma principale, poi c'è il regio decreto che la esegue, cioè il regolamento attuativo, il regolamento di esecuzione, che ha delle norme che fanno riferimento alle norme principali della legge. Piccolo problema è che questa norma, l'articolo 51, è ancora esistente, ancora in vigore, però esegue, è in esecuzione di una norma che invece è stata abrogata, abrogata già dal 1997, quindi da vent'anni. Questo è un problema, nel senso che alcuni giuristi avevano addirittura sollevato che ci fosse stata una sorta di abrogazione implicita, anche se nell'esilazione non ci aveva pensato, però avendo abrogata la norma principale, anche l'articolo 51 avrebbe dovuto essere considerato abrogato implicitamente. In realtà non è così, perché appunto anche se ha e ci tiene tantissimo a sottolineare che questa norma non è affatto da considerare abrogata, ma è ancora esistente, perché se mancasse questa mancherebbe tutto l'apparato giuridico che regge l'obbligo di compilare il borderaux. Vedete, questa è la norma che dice che appunto chi dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l'obbligo, anche ai fini del controllo sull'esecuzione di opere soggette al pagamento del diritto demaniale, di redigere per iscritto prima dell'esecuzione immediatamente dopo il programma di tutte le opere. L'obbligo di redigere questo borderaux è di farlo preventivamente o al massimo il giorno successivo, vedete, al più tardi entro il giorno successivo dello spettacolo trattenimento. Questo diritto demaniale che cos'era però? Era un diritto sostanzialmente che si pagava allo Stato anche per l'esecuzione di opere scadute, cadute in pubblico dominio, quindi classici della nostra musica. Diritto che è stato abrogato perché era totalmente contrario a delle direttive europee, quindi nel 1997 il legislatore ha detto ok, lo abroghiamo. Problema che però questo diritto viene ancora nominato in questa norma e di fatto poi viene riportato in vita dalla prassi burocratica, perché tant'è che anche nell'accordo sia e Anci, in cui si danno delle indicazioni su cosa fare nel caso di, scusate, spettacoli di tutte opere di pubblico dominio. Cosa succede? Dice che in conseguenza della legge 30 del 97, che appunto ha abolito il diritto demaniale, ha abrogato l'articolo 113, l'utilizzazione delle opere di pubblico dominio sono libere, quindi il principio è che non si debba chiedere il permesso per, e ovviamente tantomeno pagare qualcosa per eseguire opere di pubblico dominio, però di fatto poi cosa succede? Che essendoci comunque un generale obbligo di redigere un programma musicale, questo obbligo viene imposto anche quando lo spettacolo è solo di opere di pubblico dominio, quindi vedete che la burocrazia poi ci porta a questo, vedete che infatti il principio è che si possa essere una sorta di autocertificazione, vedete, la redazione del programma musicale può pertanto essere sostituita qualora ne venga fatta la specificità richiesta da una dichiarazione in fede rilasciata dai soggetti organizzatori, però comunque questa sorta di autocertificazione deve essere presentata anticipatamente alla CIA, quindi anche se io sto organizzando uno spettacolo di sole opere di pubblico dominio, devo comunque dirlo prima alla CIA che suonerò solo le opere di pubblico dominio, questo perché? Perché devo, come dire, rendere, mettere nelle condizioni la CIA e di venire a fare un controllo che io mi stia comportando correttamente, quindi comunque non c'è tutta questa libertà, perché se io devo comunque comunicarlo prima, è ovvio che mi viene, mi viene, mi sento obbligato a dover sottostare ad una sorta di prassi burocratica che appunto mi porta poi a compilare dei moduli, a richiedere della modulistica apposta, che non è sempre così facile e che poi ci porta a volte a sbagliare, ad avere dei dubbi, quindi a doverci riferire a dei soggetti che fanno questo lavoro come consulenza, quindi comunque a pagare, a pagare per un'attività diciamo puramente burocratica che invece in teoria non è sorretta da una vera norma perché quelle opere sono di libera, di libero utilizzo perché sono totalmente in pubblico dominio. Vabbè, anche qua ci sarebbero tante cose da dire, le ho dette tutte in un altro libro che è sulla CIA, si chiama CIA funzionamenti e malfunzionamento, vi invito ad andare a vedere perché andare a dare un'occhiata perché anche quel libro è liberamente scaricabile da internet, lo potete vedere, e ci sono un po' di segnalazioni, un po' di riflessioni strane su come funziona la CIA in Italia. Adesso effettivamente qualcosa stanno cercando di migliorare, vista un po' la spinta che c'è stata dall'Unione Europea, però insomma questo è un classico esempio in cui la burocrazia, la cattiva burocrazia, l'incancranirsi della burocrazia non permette lo sfruttamento libero di opere di pubblico, scusate, l'utilizzo libero di opere di pubblico dominio. Arriviamo a uno che a me piace tantissimo, ovviamente è un piace tra virgolette, io non lo sopporto, se potessi come dire idealmente cancellare questa prassi, dall'oggi al domani lo farei, ma la vedo invece sempre più comparire in rete, ovvero c'è questa credenza secondo cui la semplice digitalizzazione di un documento crei a sua volta un diritto, in realtà io come vedete scrivo nella sala, pure si può far leva su un inesistente diritto di digitalizzazione, vedete che nell'immagine ho messo uno di quegli scanner professionali che servono per digitalizzare libri e documenti, il fatto che io sia il padrone dello scanner non fa sì che io diventi titolare di un diritto, di un copyright, solo perché sono quello che ha comprato lo scanner, ok? Come d'altronde il diritto non è neanche di colui che ha, non so, idealmente scritto il software per programmare lo scanner, al massimo questo soggetto avrà un diritto sul software, su questo programma per il laboratore, ma non sulla digitalizzazione che esso genera, perché se la digitalizzazione è una mera scansione di un documento, il documento se era in pubblico dominio, rimane in pubblico dominio. Vi faccio un esempio appunto tarato sul mondo musicale, mi sono trovato una volta a discutere con chi sosteneva che appunto avendo l'ente che aveva degli spartiti di noti musicisti del 1700, aveva anche una sorta di diritto di diffusione delle digitalizzazioni. Eh, boh, io sono molto perplesso di questa teoria, infatti ho facilmente messo in crisi quella persona, però appunto pensate ad esempio agli appunti di Vivaldi. Vivaldi ci sono ancora adesso, li hanno esposti non tanto tempo fa a Torino, gli spartiti. Si parla di materiali, di documenti risalenti al 1700, anni in cui il diritto d'autore in Italia non solo scadeva, non esisteva proprio, ok? Non c'era ancora una vera e propria legislazione sul diritto d'autore, quindi è la follia totale che si possa pensare di vantare un minimo di tutela su quei singoli documenti, ok? Io sto parlando attenzione non delle opere di Vivaldi, che sappiamo tutti che sono le opere in sé cadute in pubblico dominio, perché appunto probabilmente non erano manco mai entrate nel diritto d'autore, però appunto Vivaldi è caduto in pubblico dominio, ma qualcuno vuole vantare dei diritti sulle digitalizzazioni di questi documenti, che invece non possono esistere, perché è un diritto inesistente, non esiste un diritto sulla semplice digitalizzazione. Il fatto di aver passato allo scanner questi documenti non fa sì che uno possa poi impedire che questi file, perché sono dei file digitalizzati, circolino liberamente. L'unico modo è inserirli in una banca di dati, ecco che allora torniamo all'esempio di prima, cioè torni dietro nelle slide, dal nostro diritto database write, diritto sui generis, allora in quel caso se io realizza una banca dati, che però deve essere veramente una banca dati, deve richiedere un rilevante investimento, deve rispettare alcuni parametri, alcune caratteristiche richieste dal diritto sui generis, allora l'unico diritto che si può vantare è questo, ma non esiste appunto un diritto sulla mera digitalizzazione. Mettiamocelo in testa e diciamolo a tutti per favore, soprattutto su questa cosa qua degli spartiti e delle opere classiche. Ecco, su alcuni documenti però purtroppo, attenzione che entra in gioco un altro aspetto, quindi usciamo fino a qua, abbiamo parlato di diritto della proprietà intellettuale, di diritto d'autore, di copyright, però adesso usciamo un attimo dal mio seminato, in cui normalmente mi muovo a mio agio, entriamo in un altro mondo che è quello del diritto amministrativo che io conosco un po' meno, però nel diritto, in questi temi diciamo si va a toccare anche questo diritto, perché? Perché ci sono due articoli, articoli 107 e 108 del codice beni culturali che prevedono una sorta di tutela per i beni culturali, scusatemi, per le riproduzioni dei beni culturali, cioè vuol dire che quando il bene culturale viene digitalizzato, questa digitalizzazione è appunto una sorta di riproduzione, perché poi di questo file vengono fatte copie, allora in quel caso il titolare del bene fisico, cioè del documento che è stato digitalizzato, è stato riprodotto, può chiedere o non chiedere ad alcune condizioni delle tariffe per la sua riproduzione, questo è secondo me l'abominio che si poteva creare, l'abbiamo creato, ce l'abbiamo da un po' di tempo, dal 2004, in questo codice beni culturali la norma è stata modificata più volte, l'articolo 108, anche in questi giorni hanno discusso di una nuova sua versione per ammorbidirla un attimo, però il concetto è che proprio stiamo in un certo senso allungando la tutela di alcune opere che sono ormai cadute in pubblico dominio da secoli, ma quando parlo di secoli parlo di secoli, secoli, cioè io ho sentito discorsi sulla tutela delle riproduzioni dell'uomo vitruviano di Leonardo, l'uomo vitruviano di Leonardo, il disegno originale è a Venezia e l'ente che lo conserva ovviamente mira a tenerlo sotto chiave il più possibile perché è un documento estremamente prezioso e che viene ancora richiesto da tutti, da case editrici, da case di produzione, tutto quello che volete, però appunto quello che io non riesco a capire è come si possa controllare la sua riproduzione nel mondo digitale, nel momento in cui viene realizzato un file non vado più a toccare il documento originale e quindi dal punto di vista della tutela del bene culturale il bene rimane comunque tutelato perché è sotto formalina chiuso in una teca e quello che io vado a diffondere è solamente il file. Secondo questa norma in realtà appunto il titolare del bene originale ha anche una forma di controllo sulle riproduzioni, però vedete che in questo modo abbiamo sostanzialmente rimesso sotto copyright un disegno che è del XVI secolo, del XV secolo, capite che sta sfuggendo un po' di mano, anche perché se legittimiamo questa prassi sostanzialmente abbiamo trovato il modo per evitare la caduta nel pubblico dominio di un'opera, basta dichiararla bene bene culturale, basta che essa venga classificata come bene culturale, allora in quel modo abbiamo trovato appunto lo stratagema ideale per lasciarla tutelata in eterno e non farà mai diventare il pubblico dominio veramente. Vabbè, questa era una suggestione interessante, ce ne sarebbero tantissimi altri di esempi, anche le relative ai monumenti, a riproduzione del Colosseo, riproduzione della Tour Eiffel, però dopo usciamo dall'ambito musicale, usate questo esempio appunto per i documenti dei musicisti che sicuramente a voi interessa di più. In generale concludo con questa slide che sostanzialmente dice che nonostante se non funzionassero tutte queste strategie che come vi ho spiegato mi sembrano già abbastanza forti e a volte eccessivi, si può comunque far leva sul cosiddetto food, cioè fear, uncertainty and doubt, cioè paura, incertezza e dubbio, cioè incutere paura, incertezza e dubbio negli utenti è il modo migliore per farli astenere dal libero utilizzo di certe opere. E questa è una prassi, è una strategia utilizzata abbastanza di frequente per cui appunto cosa succede è che l'utente che non è attrezzato, non è informato, si fa spesso questa domanda ma oddio so che potrei usarla liberamente però mi hanno detto che magari qualcuno se la prende e allora si fanno questa domanda e se poi qualcuno mi fa causa e dunque su questa domanda tutti si astengono perché non vogliono avere scocciature di carattere legale. Eh, questa secondo me è una prassi abbastanza distorta e sbagliata, bisogna forzarla, bisogna hackerarla, cioè fare un'attività di hacking civico, cioè soprattutto le istituzioni devono innanzitutto, le istituzioni pubbliche e culturali non devono assolutamente applicarla e avvallarla e dall'altro lato devono farsi, essere loro magari le prime a forzare un po' la mano e a farsi dare dai titolari dei diritti privati, dalle società di produzione, dagli editori, cose che magari sono lì e sono di pubblico dominio e vanno riutilizzate liberamente senza dover troppo sottostare a questa paura e a questi dubbi. Ok, quindi vi invito a questa riflessione e spero di aver chiarito un po' di questioni. Ovviamente il buon antidoto a tutti questi problemi è essere informati, quindi un maggior livello di informazione e di consapevolezza su questi temi fa sì che ci si faccia fregare meno, ho detto terra terra, che non ci si lasci troppo ingannare da questi giochetti che sono noti per chi è del settore, magari meno noti invece per chi non mastica queste materie. Spero che con questi 20 minuti, questo approfondimento io vi abbia un attimo acceso delle lampadine e riusciate in futuro, quindi grazie a questi spunti, a notare quando qualcuno sta cercando di usare degli stratagemmi per tenere sotto chiave qualcosa che invece ormai è di libero utilizzo. Ecco, questo spero che l'obiettivo sia raggiunto. Vi ringrazio, qua ci sono i riferimenti che vi ho in realtà segnalato prima, c'è anche SlideShare, c'è tutte le altre mie slide, sono tante cose perché faccio tantissimi interventi e corsi come questo e spero che possano esservi utili per gli approfondimenti. Grazie ancora, mi spiace non poter rispondere a domande perché appunto sono da remoto. Le slide sono a loro volta sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0, quindi sono anche esse insieme a questo filmato, liberamente riproducibili e riutilizzabili secondo i termini della licenza. Grazie ancora, alla prossima!